Il Comune di Susa non ha stipulato nessun contratto d'affitto che permettesse l'esecuzione dei sondaggi. È in essere una convenzione con una società che si chiama CONSEPI che ha preso in eredità la convenzione stipulata ai tempi di Renato Montabone, una convenzione stipulata ai tempi di Renato Montabone con CONSUSA. È una convenzione sessantennale, sono passati circa 30 anni e la convenzione dà il diritto di superficie alla società che ha col Comune di Susa stipulato questa convenzione. Ed è una convenzione che ha come firmatario per quanto riguarda il Comune di Susa Sandro Plano, sindaco protettore.